informiamo tutti i passeggeri di prismian group che siamo appena entrati nell'emisfero sud e vi auguriamo un piacevole soggiorno allora per festeggiare l'ingresso nell'emisfero sud offrono nettuno la cosa più preziosa che ho mi sono portato pochissimo succo di frutta per questioni di peso pochissime bottiglie e quindi la maggior parte di questa bottiglia la offrono nettuno perché si offre ciò di cui non si ha molto non ciò di cui abbiamo abbondanza troppo facile è uguale la cosa più preziosa va nella barca e poi dalla barca direttamente al mare nettuno è la mia offerta per te un goccetto lo lascio anche per me